Ben trovati la TG della mobilità, normale servizio festivo domani e lunedì per la rete del trasporto pubblico, intanto oggi scattano i divieti di sosta e le chiusure nelle strade intorno alla Basilica di San Pietro per le celebrazioni della Pasqua, è sempre in centro, da oggi a lunedì via dei Fori Imperiali sarà Isola Pedonale, mentre a Testaccio sono in programma potature in via Galvani con la chiusura di un tratto di strada e la deviazione di tre linee di bus. Nel pomeriggio invece corteo da Piazza della Repubblica, Piazzale Tiburtino, con un percorso che attraverserà Piazza di Santa Maria Maggiore, l'Esquilino, anche in questo caso chiusure al traffico e deviazioni per il trasporto pubblico. E tutto dal TG della mobilità.